È convinto di pagare più tasse del dovuto? Con un paio di mosse giuste è possibile ottimizzare migliaia di franchi d'imposte. L'importante è una buona pianificazione. La previdenza, ad esempio, permette di risparmiare sulle tasse in modo efficace ed immediato. Contributi al pilastro 3A, così come riscatti volontari in cassa pensioni, sono deducibili per intero dal reddito imponibile. In questo modo la fattura fiscale si riduce da subito. Pertanto versi sempre il tetto massimo consentito al pilastro 3A. Chi versa per 30 anni questo contributo massimo e riesce a raggiungere un rendimento sul capitale del 2%, avrà un quarto di milione di franchi in più per la propria pensione. Altra misura è quella del riscatto volontario in cassa pensioni. Il suo certificato di previdenza le mostra eventuali lacune contributive e la somma massima che può versare volontariamente. In entrambe le soluzioni la remunerazione o gli interessi sono esentasse e l'importo non deve essere dichiarato. Slitta, pertanto, l'imposta sulla sostanza. Certo, tutti i capitali previdenziali a un certo punto vengono tassati, ovvero alla riscossione e con un'aliquota più contenuta di quella sul reddito. Inoltre, questa imposta sul prelievo di capitale previdenziale può essere ottimizzata tramite uno scaglionamento. È necessaria però una pianificazione fiscale. Se vuole ulteriori informazioni su questo tema, ordini la scheda informativa oppure fissi un primo colloquio presso una nostra succursale di Vizeta.